C'è un'opportunità lavorativa nel settore dell'edilizia per i richiedenti asilo a offrirla al primo corso di formazione al Via Oggi a Potenza che conta già una settantina di partecipanti. Sentiamo Alessandro Panuccio. Sono molto felice di questa opportunità perché è venuto da un paese straniero e il suo obiettivo è quello di avere un'opportunità qui in Italia non solo per lui ma per la sua famiglia e il suo figlio. Dal Bangladesh il Pakistan e l'Africa subsahariana alla Basilicata con sogno di una vita nuova e un lavoro dignitoso. Da queste premesse parte da Potenza, Melfi e Rionero il primo corso di formazione per richiedenti asilo. Servirà ad imparare un mestiere nel settore dell'edilizia grazie a un protocollo nazionale sottoscritto dai Ministeri dell'Interno e del Lavoro con l'Associazione Nazionale dei Costruttori Affari da Capofila. Questa mattina l'avvio nella sede potentina dell'FMEA. Oggi è una giornata storica perché per la prima volta forse facciamo un'attività concreta di inserimento di extracomunitari che vogliono avvicinarsi al nostro settore. 16 ore formative per un'attività che vede in prima linea la prefettura di Potenza tra le 18 individuate in tutta Italia. Il sud in particolare siamo soltanto in 5 insieme con Bari, Napoli, Cosenza e Ragusa quindi vuol dire considerata questa provincia un'eccellenza. Circa 70 i partecipanti, ospiti di 11 strutture sparse in 9 comuni del Potentino e affiancati da mediatori linguistici. Alcuni sono in Basilicata da meno di un mese. Ma come incrociare la domanda con l'offerta? In qualche modo dovrebbe venire in maniera quasi spontanea cioè la richiesta di mano d'opera nel settore edile è molto forte.